Si è tenuta la conferenza stampa di MIP6, Maggio di Informazione Psicologica. L'evento, giunto alla stessa edizione, prevede per tutto il mese di maggio iniziative gratuite rivolte ai cittadini riguardanti la psicologia. Insieme all'assessore a decentramento Cristina Agnotta parliamo della stessa edizione di MIP6, Maggio di Informazione Psicologica. Intanto ringrazio chi ha pensato a questa iniziativa, un gruppo di psicologi che apriranno il mondo della psicologia alla cittadinanza. Sono previsti una serie di incontri, a Pavia si svolgeranno presso la sede del ex quartiere Est in via Pollaioli durante i mercoledì di maggio e lo scopo è quello di avvicinare la cittadinanza alla psicologia, appunto, far capire cosa fanno gli psicologi e comunque discutere da questo particolare punto di vista di alcune tematiche anche molto concrete e molto vicine a tutti quanti. Lascio poi ai psicologhi presenti oggi spiegare meglio nel dettaglio. Insieme a Cristina Porrato, psicologa, cerchiamo di capire un po' a cosa serve questo omaggio di informazione psicologica. Allora, l'obiettivo è quello di rendere la psicologia qualcosa accessibile a tutti, nel senso che rendere proprio concreta la figura dello psicologo e rendere concreto il lavoro dello psicologo. Quindi ogni persona che lo desidererà può, prenotandosi, proprio per dare la giusta attenzione a ciascuno, usufruire di un colloquio informativo su che cosa è la psicologia, su quali sono normalmente i suoi ambiti di intervento e altrettanto liberamente può partecipare ai seminari che abbiamo scelto di fare in città, sia appunto Pavia, Vigevano e Garlasco, che affronteranno delle tematiche specifiche di cui normalmente si sente parlare, si legge sui giornali, si ha un'informazione un pochino generica, ma spesso non da chi questo tema lo tratta nel suo quotidiano e quindi ci si fa un'idea, però poi magari non si ha l'opportunità di confrontare la propria idea con quella che poi è effettivamente la realtà dell'evento. Insieme a Nicoletta Cassiani, coordinatrice MIP6 di Pavia, cerchiamo di capire come è strutturato questo maggio di informazione psicologica. Benissimo. Allora, è strutturato in maniera molto semplice, cioè basterà andare sul sito www.psychologymip.it slash pavia o chiamare il numero 388-4273-836 per usufruire di cosa? Un colloquio gratuito laddove una persona volesse approfondire delle tematiche o chiedere un orientamento o capire semplicemente di cosa si parla quando si parla di una consulenza, di un sostegno, di una psicoterapia. O partecipare a dei seminari. Ci saranno su Pavia e Provincia 22 seminari che tratteranno diversissime tematiche, quindi dall'ansia al cibo, la coppia, il ciberbullismo, la scolarizzazione, la psiche, il soma e così via. Quindi sono seminari gratuiti con calendari quasi tutti serali, ma insomma ce ne sono veramente moltissimi in cui basta una piccola iscrizione per prenotare il proprio posto ed assistere a una conferenza, un seminario, un laboratorio. Poi ogni specialista che propone l'attività la sviluppa rispetto alle proprie pratiche. Un'altra cosa credo che sia molto interessante del MIP è che gli specialisti in questione sono di diversa formazione, quindi c'è anche la possibilità di capire rispetto a una tematica se una persona possa trovarsi meglio con una terapia sistemica, cognitivo-comportamentale, psicodinamica, piuttosto che di altra natura.